Ebbene ci siamo, è partita la corsa alla presentazione delle liste elettorali. Oggi venerdì 26 aprile dalle 8 alle 20 e domani mattina sabato 27 aprile dalle 8 e fino alle ore 12 dovranno essere consegnate al segretario generale della comune appena di esclusione dalla competizione elettorale. Ultime ore quindi per la sottoscrizione delle liste da parte dei cittadini elettori. E siamo con il segretario generale del comune di Pescara, la dottoressa Carla Monaco. Dunque questa mattina alle 8 è stato aperto l'ufficio, già presentate due liste. Ma tecnicamente come si svolge il lavoro? Tecnicamente le liste possono essere presentate nella giornata di oggi dalle 8 alle 20 e nella giornata di domani dalle 8 alle 12 come termine ultimo. L'ufficio di ricezione delle liste procede alla verifica della completezza comunque dei documenti allegati senza verificarne il contenuto perché poi è di competenza della commissione elettorale circondariale. Quindi una volta ricevuta la lista si rilascia ricevuta ai presentatori e subito si trasmette alla commissione elettorale circondariale che inizierà a riunirsi immagino già domani pomeriggio comunque nella giornata di domenica per concludere tutte le attività di verifica della correttezza delle formazioni delle liste, per l'ammissione delle stesse e a conclusione di tutte le attività procederà in seduta dove saranno presenti i delegati di lista al sorteggio per stabilire l'ordine dei simboli all'interno della scheda elettorale. La prima lista ad essere presentata ha sottolineato Luigi Addario dell'ufficio coordinamento supporto elettorale, quella a Scegli Pescara con candidato a sindaco Gianni Teodoro, subito dopo la lista a Casa Pound che candida a sindaco Mirko Iacomelli. Quante le firme necessarie per appoggiare appunto le liste? Per quanto riguarda la città di Pescara occorrono minimo 350 sottoscrizioni sino a 700. Questo è Pescara. Le commissioni saranno impegnate anche per altri comuni del circondario che sono Montesilvano, Città San D'Angelo e Cappelle sul Tavo. Fra 30 giorni dunque, domenica 26 maggio, si tornerà alle urne per eleggere nuovi sindaci in 99 comuni abruzzesi e di parlamentari europei della circostrizione meridionale. Tra i comuni abruzzesi ci sono anche Pescara, Montesilvano e Giulianova con più di 15.000 abitanti dove è previsto l'eventuale turno di ballottaggio. Da notare infine, lunedì sera alle ore 20.30, primo confronto televisivo tra i candidati a sindaco al comune di Pescara sulla nostra emittente Rete 8 in collaborazione con il Cotidiano Il Centro.